Da tifoso dell'Inter, la notizia che Bonucci e Pogba si sono allenati insieme è qualcosa che non possiamo ignorare, sappiamo che questi due giocatori sono fondamentali nella squadra bianconera e la loro assenza potrebbe essere un vantaggio per noi nella prossima partita. Ciao tifosi nerazzurri, benvenuti nel nostro canale di notizie sull'Inter, dove rimarrai aggiornato su tutte le novità della nostra squadra del cuore, e per cominciare, parliamo della notizia che ha scosso il web dopo l'andata delle semifinali di Coppa Italia, Bonucci e Pogba si sono allenati insieme il giorno dopo il pareggio con l'Inter, si qualifica come buona notizia per la Juventus, analizziamo insieme e scopriamo come questo può incidere sull'esito della prossima partita, ma prima iscriviti al canale per essere sempre aggiornato sulle novità dell'Inter qui, andiamo, sappiamo che la Juventus è una grande squadra, ma noi siamo l'Inter, una squadra con una storia ricca di titoli e conquiste. Non lasciamoci intimidire dall'allenamento a due giocatori insieme, la nostra squadra ha giocatori di talento in tutte le posizioni, un allenatore esperto e una folla che non smette di cantare e sostenere durante i 90 minuti della partita. Siamo in grado di battere qualsiasi squadra, ovunque, e non c'è nulla che possa impedirci di vincere la prossima partita. Se sei d'accordo con me, lascia il tuo mi piace sul video. Quindi, Juventus, puoi festeggiare questa buona notizia, ma sappi che l'Inter è pronta a lottare e vincere. Giocheremo con determinazione, grinta e passione, onorando i colori della nostra squadra e la storia che ci portiamo dietro. Faremo del nostro meglio in campo, lasciando tutto in campo e mostrando al mondo perché siamo una delle più grandi squadre di calcio del mondo. Cosa ne pensi della notizia che Bonucci e Pogba si sono allenati insieme dopo l'andata della semifinale di Coppa Italia? Consideri questa buona notizia per la Juventus? O credi che questo non influenzerà l'esito della prossima partita? Ricordando che l'Inter è la squadra migliore e più grande d'Italia. Lascia la tua opinione nei commenti, lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie aggiornate dall'Inter. Alla prossima volta tifosi nerazzurri.